Siamo con Marco Fioravanti, sindaco della città di Ascoli. Ci aiuta a capire cosa c'entra Ascoli, la città scritta nella pietra come recita al titolo della mostra, con la passione per l'uomo. C'entra perché Ascoli è una città non solo meravigliosa, ma una città molto spirituale, dove sembra che il tempo si è fermato. Quindi proprio ad Ascoli cerchiamo anche di andare controcorrente in questo mondo troppo globalizzato, troppo veloce, per rallentare il tempo e per godere anche delle piccole cose, piccoli gesti, anche l'importanza delle relazioni umane. Quindi l'uomo al centro veramente della città, una città piena di pietra bianca, scritta del bianco travertino e descritta del bianco travertino, una città dove sprigiona spiritualità ovunque. Abbiamo oltre 45 chiese, quindi una città che comunque vive il valore comunitario come elemento fontante della città stessa. Una città a misura d'uomo quindi? Sì, una città a misura d'uomo, una città dove la qualità della vita è il valore fondamentale e quest'anno abbiamo fatto un'importante mostra proprio sul valore della pietra. Anche una pietra che ha un'anima, quindi non una pietra fredda come oggetto, ma una pietra che può dare valore anche all'uomo per ritrovare quel senso di comunità importante, anche per superare le molte difficoltà. Noi abbiamo vissuto prima il terremoto, poi la pandemia, questa forza della città viene proprio dal valore spirituale e dal valore di tendere la mano all'altra.